Quali sono le novità sostanziali in materia di assegni dopo il 30 aprile? A partire dal 30 aprile noi possiamo emettere assegni con la clausola di non trasferibilità, solamente questa tipologia di assegni, per importi superiori ai 5.000 euro. Che cosa comporta questo? Comporta assolutamente la necessità di dotarsi presso la propria banca di assegni con la clausola non trasferibile. Se per caso io ho già un libretto di assegni con la clausola liberi come erano prima, devo ricordarmi assolutamente per gli assegni che sto emettendo in questo periodo e da questo momento in poi di inserire comunque la clausola di non trasferibilità. È cambiato anche il metodo di come si girano gli assegni? Sì, per gli assegni quindi al di sotto dei 5.000 euro che io posso girare li devo sempre comunque mettere il nome e cognome e il codice fiscale della persona che gira l'assegno. Se non faccio questo significa che dopo N girate e poi alla fine qualcuno andrà in banca per riscuotere questi soldi, questo assegno diventa inesigibile perché la girata diventa nulla. Come mai queste novità? Queste novità sono comunque a tutela del consumatore perché in questo modo il consumatore chi emette l'assegno, il consumatore che emette l'assegno ha la tracciabilità del percorso che fa il proprio assegno e non corre il rischio di falsificazioni, di contraffazioni e comunque che questo assegno venga utilizzato per scopi non leciti. Proprio per questo motivo è stato tolto anche l'assegno a me medesimo, non è più possibile? No, l'assegno a me medesimo è possibile farlo però deve essere girato, quindi quella è una girata a una banca o a un ufficio postale. Assolutamente non possiamo più dare, magari quando andiamo in un negozio ad acquistare una merce, dare un assegno a me medesimo girato al negoziante perché il negoziante non può averlo, perché bisogna avere comunque la tracciabilità del percorso che la somma fa da chi se ne spossessa a chi finalmente dopo N girate ne entrerà in possesso. Quali sono i consigli che dà agli utenti? I consigli che do io è quello di emettere sempre e comunque gli assegni con la clausola di non trasferibilità e di avere comunque la certezza e la consapevolezza a chi si danno questi assegni e utilizzare sistemi alternativi, quale il bonifico in banca e le carte di credito che in questo momento è quello che ci dà maggiori garanzie per il trasferimento di danaro. Quali sono le iniziative della Cassa a riguardo? Innanzitutto tutti i nostri clienti possono trovare la massima disponibilità e competenza in tutto il nostro personale e presso tutte le nostre filiali. Siccome questo è un cambiamento abbastanza importante abbiamo redatto un semplice puscoletto che si chiama assegni cambia tutto, che tutti possono ritirare presso le nostre filiali. In modo molto semplice viene spiegato che cosa in buona sostanza cambia. Anche per esempio per i titoli al portatore, dico libretti, noi abbiamo in questa zona d'Italia abbiamo tantissimi libretti al portatore, anche lì c'è l'obbligo di far scendere il saldo al di sotto dei 5.000 euro e c'è l'obbligo della comunicazione alla banca in caso di trasferimento di questo titolo da un soggetto a un altro. Quindi però trovate tutto scritto qui in questo puscolo, è stato redatto dall'Associazione Bancaria Italiana in collaborazione con tutte le nostre banche.